Buongiorno amici di Amica Borsa, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le notizie finanziarie. Questa settimana sarà una settimana caratterizzata dalle notizie provenienti dalle banche centrali di tutto il mondo, ma andiamo subito a vedere giornalmente quali saranno le notizie più importanti. Oggi, lunedì 9 aprile, alle 16.30 comincia la Bank of Canada con il rilascio del Business Outlook Survey, che è un report con indicazioni sulle future decisioni sui tassi. Martedì 10 aprile, alle 14.30 in America, il dato PPI mese su mese, che è la variazione del prezzo dei prodotti finiti e dei servizi venduti dai produttori. È un buon dato rispetto al precedente, può spingere sul dollaro. Mercoledì 11 aprile, alle ore 7.30 comincia la Reserve Bank of Australia, il governatore Philip Lowe terrà uno speaks, mentre alle 10.30 in Inghilterra il Manufacturing Production mese su mese, cioè la variazione del valore totale della produzione corretto in base all'inflazione. Alle ore 13.30 Draghi terrà un discorso alla cerimonia degli studenti della generazione dell'euro a Francoforte. Sono attese domande del pubblico. Alle ore 14.30 in America il CPI e il CPI Core, che sono due dati che rappresentano la variazione del prezzo di beni e servizi acquistati dai consumatori. Alle 16.30 il solito Crude Oil Inventories, la variazione delle scorte di petrolio americane. Alle ore 20 i dati del FOMC, il Federal Open Market Committee, emetterà un resoconto dettagliato dell'incontro più recente che si è tenuto dai membri del FOMC e fornisce degli approfondimenti sulle condizioni economiche e finanziarie che hanno influenzato il voto dei componenti del FOMC per fissare i tassi di interesse. Giovedì 12 aprile, alle ore 2.30 del mattino, il governatore Kuroda interviene al meeting trimestrale della Bank of Japan. Alle 13.30 abbiamo il Monetary Police Meeting Accounts della Banca Centrale Europea, resoconto dettagliato dell'incontro dei consiglieri di amministrazione della BCE, cioè l'equivalente del FOMC americano, e fornisce approfondimenti sulle condizioni economiche che hanno influenzato le decisioni dei consiglieri di amministrazione della BCE sul fissaggio dei tassi di interesse. Alle 21, invece, uno speaks del governatore Carney della Bank of England consegnerà delle osservazioni conclusive sulle politiche pubbliche inglesi al Summit sulla crescita di Toronto. Venerdì 13 aprile, nessuna notizia di rilievo. Bene, anche per questa settimana è tutto, ci vediamo la settimana prossima, un caro saluto a tutti voi.